buonasera benvenuti a questa seconda puntata del sociale questa nostra rubrica dedicata a quanto di buono viene fatto sul nostro territorio ricollegandoci al servizio di due settimane fa sulle raccolte di aiuti a favore dei terremotati siamo andati a vedere quanto hanno messo in campo a riguardo anche le cooperative agricole tarquinesi andiamo a vedere quindi un servizio in merito buonasera siamo presso il cosma grigi di tarquinia in compagnia di alessandro serafini che è il presidente della locale sezione della col diretti per portare testimonianza di un'iniziativa di solidarietà degli agricoltori tarquinesi nei riguardi dei terremotati delle zone appenniniche ecco buonasera alessandro volevo chiederti cosa vi ha spinto a prendere questa iniziativa la spinta è arrivata soprattutto dalla base della nostra associazione col diretti tarquinesi a montromano gli agricoltori hanno preso al volo diciamo questa occasione di dare una mano agli allevatori del centro italia che oggi versano in tra il terremoto la neve il gelo in fortissima difficoltà lo facciamo con veramente col cuore non considerando neanche che possa essere una donazione ma un prestito perché siamo sicuri che questi agricoltori porteranno con il ritorno d'immagine dei loro prodotti continuando a coltivare le loro telle e gli allevamenti che un ritorno d'immagine forte per l'agricoltura italiana dunque ce li renderanno questo piccolo aiuto che gli diamo oggi con gli interessi di che genere di aiuti si tratta principalmente ma abbiamo 160 quintali tra orzo biada e mangime per i bovini e gli ovini abbiamo un autotreno di fieno che è stato concesso dal comune di monte romano e da aziende agricole del territorio chi più chi ha messo un po di più chi un po di meno però siamo riusciti a fare una macchina sana diciamo che per quello che ci aspettavamo è toccato riorganizzarsi a livello logistico perché gli agricoltori hanno partecipato molto di più di quello che ci aspettavamo dunque veramente fa capire quanto sia sentito oggi il problema del terremoto e un problema in cui versano diciamo gli agricoltori a causa del terremoto e della neve di quest'inverno Bene questa è un'ottima notizia ci è stata una forte risposta e diciamo adesso quali sono le principali criticità che stanno affrontando in questa fase gli agricoltori gli allevatori terremotati dell'Appennino Prima di tutto le stalle che sono per le notizie che ci abbiamo sono praticamente inagibili sia le stalle che le case dove abitano dunque molti hanno mandato via le famiglie e vivono nelle roulotte dunque in uno stato capite che è inverno insomma che non è facile con il besiame che sta allo stato brado con un inverno veramente rigido in quelle zone Capisco, bene Alessandro complimenti per questa vostra splendida iniziativa, a presto Grazie, speriamo magari se ce lo chiederanno anche di replicarla Bene, ringraziamo gli agricoltori darquinesi per quanto stanno facendo e passiamo ora ad un altro argomento ovvero l'attività dei volontari donatori del sangue Buongiorno, sono il presidente dell'Avis e io come primo donatore sto aspettando l'arrivo dell'automoteca che dovrebbe essere qui a minuti, in realtà dovrebbe essere qui dalle 8 e speriamo che arrivi quanto prima Ma ormai c'è questa situazione così diciamo provvisoria dell'automoteca? Beh, ormai è noto che a Tarquinia la nostra sede storica era stata chiusa già a giugno del 2015 abbiamo ultimato i lavori e stiamo aspettando le autorizzazioni per riaprire purtroppo in questo periodo c'è una grossa emergenza sangue e anche con gli ultimi eventi che sono successi lì al centro trasfusionale di Viterbo c'è stato chiesto appunto di fare un'ulteriore richiesta per l'automoteca appunto per fare delle donazioni perché comunque l'emergenza sangue c'è Ma l'automoteca quindi viene da Roma? Beh sì, l'automoteca è messa a disposizione dalla Regione Lazio e quindi viene da Roma ci auguriamo che insomma sia stato soltanto un problema tecnico di traffico e che arrivi anche perché ci sono come avete detto diversi donatori che stanno aspettando A digiuno? Ovviamente a digiuno Ma è previsto prossimamente una diversa sistemazione qui a Tarquinia? Beh noi i locali sono pronti e stiamo aspettando solamente diciamo di partire in realtà dobbiamo solamente collegarci con la linea Emonet che appunto ci dovranno dare la linea sempre dal centro trasfusionale di Viterbo e poi daremo il via con la richiesta per l'ispezione che ci darà l'autorizzazione a riaprire la sede Siamo qui all'interno dei locali in allestimento per la nuova sede L'Avis di Tarquinia con il presidente dei donatori che è Massimiliano Bellini e ci presenta appunto i lavori in svolgimento Sì noi siamo ormai gli sgoccioli questo sarà il punto centrale dove appunto verranno fatte le donazioni la saletta con le postazioni sarà questa qui e quindi aspettiamo che a breve insomma ci diano il via per ricominciare Bene ringraziamo i volontari dell'Avis e gli facciamo i nostri migliori auguri per la loro nuova sede Prima di salutarvi voglio informarvi che presto metteremo in rete una nuova rubrica che si chiama Tuscia, Sicurezza, Giustizia e Legalità e verrà condotta dal dottor Remo Fontana, criminologo Vi ricordo infine il numero whatsapp per le vostre segnalazioni o in alternativa il nostro indirizzo mail redazionewebtv-outlook.it Arrivederci a presto Grazie a tutti